L'invincibile potenza di Roma, come gli artiglie di un falco, si è chiusa su tutto il continente. Tranne qui in Gallia, dove un pugno di irriducibili galli continuano a irridere il becco dell'aquile imperiale. Abra Raccurs X, dobbiamo parlare. Adesso è in riunione, mi lasci un messaggio? Che facciamo, Panoramix? Largo alla civilizzazione, la foresta va disboscata. Io un'idea ce l'avrei, ma so già che voi non vorrete. E se dessimo ai Romani una batossa generale? Ecco, era questa la mia idea. Siete stati tutti serviti, ragazzi! No. Quanto costano? Un sesterzo e quaranta. Un pezzo speciale Regno degli Dei, quaranta sesterzi. Lo compro. Siete diventati una banda di imbecilli avidi. È falso, eravamo imbecilli già molto prima dei Romani. I galli vogliono vivere come i Romani. Il suo piano si sviluppa meglio del previsto. È un villaggio da radere al suolo. Non avete capito un bel cubitus? Presente. Tito cubitus. Caricate! Voi non potete passare! Il barbuto, liberelo! Non è la solita limonata, eh? Dal 15 gennaio al cinema!